Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se siete interessati potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. È il 2008 e ci troviamo a Guersault, un piccolo villaggio situato nella contea di Wrexham, nel Galles del Nord. Qui, da suola, vive una donna di 41 anni, Matati Rogers, detta Tati. Tati nasce nell'agosto del 1966 in Indonesia, dove rimane fino alla prima età adulta, dunque per gran parte della sua vita. Quando ha circa 30 anni, tra la metà e la fine degli anni 90, Tati si trasferisce in Galles con suo marito Jason. Tati e Jason si erano conosciuti nel 1995, mentre lui era in vacanza in Indonesia. I due, riscoprendosi molto complici tra loro, si erano sposati ben presto e poi avevano deciso di stabilirsi nel Galles del Nord. Chiaramente questo è stato un grande cambiamento nella vita di Tati, ormai lontanissimo da casa sua, dall'unico posto che conosce, impossibilitata a vedere spesso familiari e vecchi amici. Per lei non è affatto facile, eppure riesce ad ambientarsi rapidamente in Galles e stringe nuove amicizie, incontra persone che appartengono alla sua stessa cultura e questo è molto importante per lei. Inizia pure a lavorare in un caseificio della zona, quindi si può dire che le cose vadano piuttosto bene per Tati, ma nel 2004 la sua vita viene di nuovo sconvolta completamente perché lei e suo marito si separano. Tati soffre moltissimo per questa scelta, a cui in realtà è stata indotta perché suo marito non era più felice con lei, quindi Tati ha preso la giusta decisione di lasciarlo andare per la sua strada. Insomma, Tati si ritrova a dover vivere da sola, ma decide di non tornare in Indonesia, rimane nel Galles del Nord, trova un altro appartamento e cerca di abituarsi alla nuova vita da single. Ogni volta che può vede i suoi amici, i quali la considerano una donna molto leale e affettuosa, con un cuore d'oro. Tati ama passeggiare, le piace tanto ballare e ascoltare la musica ed è una donna forte volitiva. A qualche mese di distanza dal divorzio, Tati vuole dare un'altra occasione all'amore, intenzionata a trovare la persona giusta con cui passare il resto della vita. Così accetta di uscire con un paio di uomini. Pian piano Tati si lascia alle spalle la sofferenza per il suo matrimonio finito, si rimette in gioco e ritrova la felicità. La donna ora sta bene, soddisfatta del suo lavoro e circondata da amici che le vogliono bene. Finché non accade qualcosa. Il 5 gennaio del 2008, quando Tati decide di fare visita a un paio di amiche, ovvero Hannah e sua madre, Anne. Natale è passato da poco e Tati desidera trascorrere un po' di tempo con loro, pranzare insieme, fare quattro chiacchiere. Così, il 4 gennaio manda un messaggio alle amiche dicendo che sarebbe arrivata a casa loro il giorno dopo, verso le 13.30. Arriva il giorno seguente, il 5 gennaio, ma alle 13.30 Tati non si fa viva. Tuttavia le amiche lì per lì non si preoccupano, pensano che lei sia semplicemente in ritardo, anche se ciò è strano, perché Tati era una donna molto puntuale. Forse aveva avuto un contrattempo o l'autobus che avrebbe dovuto prendere non era partito in orario. Le due amiche, pur non agitandosi ancora, sono un po' dubbiose. Perché Tati non ci ha avvertito del ritardo? Si chiedono. Per poi mandarle dei messaggi. Va tutto bene? A che ora arrivi? Domande a cui non ricevono risposta. Allora provano a telefonarle, sia al cellulare che al telefono di casa. Ma Tati non risponde. A questo punto la preoccupazione si fa seria. Hanna e En sanno che Tati non è solita ignorare chi la cerca. Hanno davvero un brutto presentimento e quindi decidono di andare a casa di Tati per capire cosa sta succedendo. Una volta arrivata a destinazione, bussano alla porta, ma Tati non va ad aprire. Ora il panico assale le due amiche. Tati non risponde ai messaggi, né alle chiamate. E pare non sia in casa. E se invece si fosse ferita all'interno dell'appartamento e non riuscisse a muoversi? O peggio, se fosse incosciente e avesse bisogno di cure mediche? Hanna e En vogliono fare qualcosa. Così contattano il servizio di emergenza, che a sua volta interagisce con la polizia. Gli amiche di Tati spiegano agli investigatori di Wrexham che non è da lei sparire così, senza dire una parola. Quindi la polizia prende sul serio la segnalazione, ipotizzando che Tati sia rimasta coinvolta in un incidente domestico o avvenuto all'esterno. Per prima cosa gli agenti raggiungono l'appartamento di Tati e bussano anche loro alla porta, ma siccome non ottengono risposta, decidono di forzarla. Una volta dentro si rendono conto che Tati non c'è e nulla suggerisce cosa possa esserle accaduto. L'appartamento in ordine non presenta alcun segno di lotta come tracce di sangue o di rapina, come oggetti sottratti. Inoltre, probabilmente Tati non è andata molto lontano perché i suoi vestiti sono ancora nell'armadio, mentre sul fornello c'è una pentola con dentro delle pietanze. Siccome il fuoco è spento, i detectivi immaginano che Tati si fosse anticipata nel predisporre gli alimenti da cuocere per poi cucinare una volta tornata a casa. Riassumendo, dunque, nell'appartamento della donna non c'è nulla di anomalo. Ma allora dov'è Tati? Sembra semplicemente svanita nel nulla. Perquisendo velocemente la casa, la polizia trova una piccola rubrica in cui Tati ha annotato indirizzi e numeri di telefono di tutti coloro che conosce. La prima linea di indagine della polizia è proprio quella di chiedere a tutti i contatti elencati in rubrica se sappiano dove possa trovarsi Tati. Magari qualcuno di loro l'aveva vista o sentita nelle ultime 24 ore. Inoltre, esaminando la data e l'ora stampate su uno scontrino trovato in casa, gli agenti apprendono che Tati era stata in un supermercato della zona la sera prima della sua scomparsa, cioè quella del 4 gennaio. In possesso di queste informazioni, la polizia chiede al direttore del supermercato di visionare i filmati delle telecamere a circuito chiuso installate nel negozio in relazione alla sera del 4 gennaio. Ed ecco che vedono Tati mentre entra nel supermercato, gira tra gli scaffali e poi va via. Anche in questo caso niente sembra fuori posto. Tati appare tranquilla nelle riprese che corrispondono al suo ultimo avvistamento. Per la polizia la donna è scomparsa dopo aver fatto la spesa ed essere tornata a casa, visto che lo scontrino si trovava nel suo appartamento. La polizia ancora non ci vede chiaro sul motivo della sua sparizione ed elabora qualche teoria. La prima. Tati si è allontanata di sua iniziativa, decidendo di stare via per un po' da sola, anche se questa ipotesi barcolla, visto che la donna aveva lasciato gli armadi pieni e la pentola sul fornello. Seconda teoria. Tati è rimasta coinvolta in un incidente, forse automobilistico. Terza teoria, la più allarmante. Tati è stata rapita e uccisa da qualcuno. Nel frattempo, come detto, i detective stanno contattando tutti i nominativi della rubrica di Tati e da un amico della donna, Lucas Respondek, ricevono delle informazioni interessanti. Lucas ha circa 30 anni ed è originario della Polonia. Nel 2004 si è trasferito a Wrexham, vi ricordo, nel Galles del Nord. Lucas, partito inizialmente da solo, era stato poi raggiunto dalla famiglia, la moglie e due figli maschi. Per un periodo Tati, collega di Lucas al caseificio, aveva ospitato tutti quanti a casa sua in attesa che trovassero un'altra sistemazione. Dopo aver esaminato i tabulati telefonici di Tati, la polizia scopre che l'ultima persona con cui aveva parlato, prima di scomparire, è appunto Lucas. Quindi bisogna sentire cosa da dire, magari sa dove si trova Tati, oppure, nella peggiore delle ipotesi, Lucas è coinvolto nella scomparsa della donna. Lucas spiega che nelle ultime settimane, cioè durante le vacanze di Natale, era andato con la sua famiglia in Polonia. All'inizio di gennaio, però, Lucas era tornato in Galles da solo perché il resto della famiglia aveva in programma di raggiungerlo qualche giorno dopo. Il punto è che Lucas è rientrato proprio il 4 gennaio, il giorno in cui si ritiene che Tati sia scomparsa. E lui l'avrebbe addirittura vista. È Lucas stesso a riferire che la sera del 4 gennaio era andato a casa della donna per portarle il regalo di Natale. Lucas spiega che Tati era molto felice di vederlo, avevano chiacchierato un po', poi lei gli aveva chiesto un passaggio per andare a trovare degli amici. Ovviamente non si tratta di Hannah e di Anne, perché, come sapete, Tati aveva in programma di incontrarle il giorno successivo. Lucas quindi accetta la richiesta e lascia Tati in una strada chiamata Mold Road. La saluta e va via. Al momento Lucas risulta essere l'ultima persona che ha visto Tati in vita, quindi diventa un soggetto di interesse per la polizia, che gli chiede di consegnare i propri dispositivi elettronici, ovvero telefono e computer, poi anche la macchina fotografica e il navigatore satellitare. Lucas si dimostra disponibile dicendo agli agenti che non c'è alcun problema. La polizia ha ottenuto il materiale e inizia a esaminarlo. Nel frattempo i giorni passano e di Tati non c'è neanche l'ombra, così i detective decidono di condurre un'altra perquisizione, stavolta più approfondita nel suo appartamento. Una squadra forense lavora per cercare di ottenere qualche prova, come impronte digitali, DNA, macchie di sangue, qualcosa che possa suggerire cosa sia accaduto a Tati. Siccome non saltano fuori prove schiaccianti, gli agenti concludono che, qualora Tati fosse stata rapita e uccisa, l'omicidio non si era verificato nel suo appartamento. Quella non è una scena del crimine. Tuttavia qualcosa si rileva nella camera di Tati. Sul letto, infatti, vengono trovate delle tracce di liquido seminale. In realtà questa scoperta confonde i detective perché gli amici di Tati hanno riferito che era una donna single e che avrebbe condiviso il letto soltanto con l'uomo che l'avrebbe sposata perché la sua religione e la sua serietà le impedivano di fare altrimenti. Quindi, come mai quel liquido seminale sul letto? È forse collegato alla sua scomparsa? Qualcuno l'ha aggredita intimamente? Alcuni campioni del liquido vengono inviati al laboratorio per essere analizzati. I detective vogliono scoprire a chi appartenga, anche se nel 2008 questo tipo di test richiedeva parecchio tempo. Dunque, non resta che aspettare. Nel frattempo, come anticipato, gli investigatori stanno analizzando i dispositivi elettronici di Lucas. E ciò che trovano nel suo computer, anche se non riguarda Tati, è davvero orribile. Si tratta di diversi video su bambini e di varie foto indecenti. Come avrete intuito, quest'uomo è un pedo, quindi viene immediatamente arrestato e accusato per il reato in questione. Mentre in attesa del processo, il trentenne viene rilasciato su cauzione, ma gli investigatori sospettano nettamente che Lucas sia coinvolto anche nell'improvvisa scomparsa di Tati. Il materiale indecoroso rinvenuto sul suo computer non prova che abbia fatto del male a Tati, che fra l'altro è una donna adulta, ma dimostra che Lucas è una persona inaffidabile, che prova piacere per cose ripugnanti. Ma non è finita qui. Gli investigatori scoprono anche che dopo la scomparsa di Tati, Lucas aveva cercato su Google cosa succede ai cadaveri e quanto tempo impiegano i cadaveri a decomporsi. È a questo punto che Lucas diventa il principale sospettato nelle indagini. Anche se non è stato ancora trovato il corpo di Tati, i detective sono convinti che lui l'abbia uccisa. Altrimenti perché mai avrebbe fatto quelle ricerche sul suo computer proprio dopo la scomparsa di Tati? Quindi la polizia è convinta che Lucas sia un assassino, ma non ha ancora prove concrete per dimostrarlo. L'unico elemento contro di lui ha una natura circostanziale, cioè non lo collega direttamente alla scomparsa della donna. Quindi per ora non possono accusarlo del delitto, ma possono continuare a cercare prove e a esaminare gli dispositivi che Lucas aveva fornito senza alcuna opposizione. Analizzando la memory card della sua macchina fotografica, la polizia trova alcune fotografie che suggeriscono un possibile movente per Lucas. Le immagini cancellate dalla fotocamera raffigurano proprio Tati in disabillé, colta nella sua intimità. A questo punto la polizia inizia a pensare che Tati e Lucas intrattenessero una relazione segreta. Lucas tradiva sua moglie con lei e forse Tati, innamorata, sperava che il loro rapporto potesse emergere alla luce del sole. Probabilmente si era stufata di nascondersi e spronava Lucas a raccontare la verità. Forse Tati era addirittura arrivata a minacciarlo, se non lo dici tu a tua moglie ci penserò io. Ed ecco che spunta il movente. Lucas forse a quel punto era andato nel panico e aveva deciso di ucciderla prima che il suo tradimento venisse scoperto. Lucas, quando aveva fornito le sue dichiarazioni alla polizia, insisteva sul fatto che lui e Tati fossero solo amici. Ma le foto sulla memory card della sua macchina fotografica indicano esattamente il contrario. E a smentirlo è anche un'altra prova ottenuta in laboratorio, perché le tracce del liquido trovate sul letto di Tati corrispondono proprio a Lucas. In seguito a questa ulteriore scoperta, Lucas viene interrogato di nuovo. I detective gli chiedono come sia possibile che tra lui e Tati ci fosse soltanto un'amicizia, visto che tracce del suo seme erano presenti sul letto della donna. Lucas nega di aver avuto rapporti contati, spiegando che quando lei aveva ospitato tutta la sua famiglia in casa propria, lui e la moglie erano stati insieme nel letto di Tati. La moglie dell'uomo conferma il fatto agli agenti, i quali non possono provare che stiano mentendo, quindi devono cercare altre prove. Vi dirò che questo risvolto del caso mi confonde, perché sì, Lucas e la sua famiglia erano stati ospitati da Tati, ma quando lei è scomparsa loro si erano già trasferiti in un'altra casa da un po' di tempo. Dunque, possibile che Tati non abbia lavato le lenzuole e il copriletto da così tanto? Mi pare strano che si sia messa a dormire sulla biancheria sporca data in prestito agli ospiti. Lucas e sua moglie non hanno occupato quel letto di recente. Chiaramente, se il seme fosse stato rilevato sul materasso, la situazione cambierebbe, ma purtroppo le fonti non specificano bene questo particolare. Tuttavia, è strano. Un'altra linea di indagine che la polizia decide di seguire riguarda le finanze di Lucas. Insomma, bisogna controllare i suoi conti bancari per scoprire se risaltano delle spese sospette, effettuate dopo la scomparsa di Tati. Proprio il giorno dopo la sua sparizione, quindi il 5 gennaio, emerge che Lucas era andato al negozio di bricolage locale per ricomprare del nastro biadesivo, dei fogli di polietilene antipolvere, un coltello, dei guanti e una vanga, attrezzo che si usa per suddividere il terreno in solle. Sembrano tutti acquisti effettuati per sbarazzarsi di un cadavere, del corpo di Tati. Più tardi, quello stesso giorno, Lucas aveva comprato anche una grossa valigia in un altro negozio, probabilmente usata per trasportare il cadavere della donna, per poi seppellirla da qualche parte usando la vanga. A fronte di tutte queste scoperte, i detective ritengono di avere prove sufficienti per arrestarlo. Siamo nell'aprile del 2008, quindi sono passati circa tre mesi dalla scomparsa della donna. Anche se non hanno ancora trovato il suo corpo, gli investigatori sono piuttosto sicuri di avere a che fare con un'indagine per omicidio. Dopo l'arresto, Lucas viene interrogato sugli oggetti che aveva comprato dopo la scomparsa di Tati. Lui spiega che gli serviva una valigia nuova perché la vecchia si era banalmente rotta e che la roba acquistata al negozio di bricolage gli occorreva per decorare casa. Anche in questo caso Lucas dà agli investigatori delle spiegazioni ragionevoli e loro non possono provare che stia mentendo. Non ci sono elementi in grado di dimostrare che quegli articoli comprati il 5 gennaio in realtà gli servivano per sbarazzarsi di un cadavere. Tuttavia, ora gli inquirenti vogliono condurre delle perquisizioni a casa di Lucas e nella sua proprietà. chissà se quegli oggetti si trovano ancora lì. Insomma, se li avesse usati per liberarsi del corpo di certo se ne sarebbe già sbarazzato, no? La squadra forense che perquisisce la casa trova ogni singolo oggetto che Lucas aveva acquistato ma tutti sembrano come nuovi, non li ha mai usati. Strano visto che lui aveva detto di volerli adoperare per svolgere dei lavoretti in casa. Lavori mai cominciati. La casa di Lucas sembra condurre a un vicolo cieco, ciò nonostante le perquisizioni forensi continuano nell'obiettivo di non tralasciare alcuna potenziale prova. Bisogna assicurarsi di passare tutto al setaccio. La polizia trova anche delle piccole tracce di sangue ma, in seguito a un'analisi, apprende che non sono riconducibili a Tati. A casa di Lucas non emerge nessuna prova che potrebbe collegarlo a un omicidio e pare che i detective debbano mettersi l'anima in pace. Non hanno abbastanza elementi per accusarlo, quindi devono rilasciarlo e continuare a indagare. L'aver ritrovato quegli articoli tutti intatti, comprati da Lucas proprio il 5 gennaio al negozio di Fai da te, è ciò che ha sorpreso maggiormente gli investigatori. Erano convinti che lui li avesse usati per disfarsi del cadavere di Tati, ma non adoperarli affatto. Che senso aveva? D'un tratto gli investigatori hanno un'intuizione, che li porta a formulare un'ipotesi. Lucas poteva aver comprato tutti quegli oggetti per due volte. Probabilmente aveva usato quelli acquistati la prima volta per nascondere il corpo di Tati. Poi li aveva gettati. E infine, per non destare sospetti, se li era procurati di nuovo, rifacendo gli stessi identici acquisti. Con questa nuova teoria in mente, gli investigatori danno un'altra occhiata ai suoi estratti conto bancari. E questa volta notano che, sei giorni dopo la scomparsa di Tati, e cinque giorni dopo aver acquistato gli articoli al negozio di bricolage, Lucas aveva prelevato circa 200 sterline. I detective a questo punto si dirigono al negozio di Fai da te per guardare il filmato della telecamera al circuito chiuso relativo al giorno in cui Lucas aveva prelevato quei soldi. E indovinate un po'? Ebbene sì. Lo vedono mentre ricompra gli stessi identici oggetti. Ha riacquistato persino la valigia. Dunque, ricapitolando l'ipotesi degli inquirenti, Lucas uccide Tati e usa gli oggetti comprati il 5 gennaio per sbarazzarsi del suo corpo. Viene interrogato dalla polizia e va nel panico perché ha ammesso di aver visto Tati la sera in cui è scomparsa. Sospetta che gli agenti avrebbero fatto un controllo sui suoi dispositivi elettronici e sugli estratti controbancari. Prevede che i detective sarebbero venuti a sapere dell'acquisto di quegli articoli sospetti effettuati per smaltire il corpo di Tati e poi gettati. Ricompra gli stessi oggetti, ma questa volta usando contanti, pensando che così non avrebbero potuto rintracciarlo. Non immagina che la polizia sarebbe stata comunque in grado di provare che aveva replicato l'acquisto di ogni singolo articolo. Posizione in casa sua gli attrezzi immacolati, mai usati, credendo che le accuse contro di lui sarebbero definitivamente cadute. Dopo aver messo insieme tutti questi tasselli, Lucas viene nuovamente arrestato con l'accusa di omicidio e interrogato ancora. Ormai lo sa, lo sa che lo stanno inchiodando al crimine e non riesce a trovare spiegazioni per giustificare il duplice acquisto di tutta quella roba sospetta. Infatti, Lucas, a riguardo, risponde soltanto no comment, ma continua a sostenere la sua innocenza, afferma di non essere assolutamente coinvolto nella scomparsa o nell'omicidio di Tati Rogers. Alla fine viene rilasciato ancora una volta, perché mancano prove concrete per accusarlo. Gli inquirenti non hanno neanche prove concrete che Tati sia morta, in quanto il suo cadavere non è mai stato rinvenuto. Le indagini procedono, ma sfortunatamente, col passare del tempo non emergono nuove piste e il caso si arena. Nel frattempo, Lucas viene messo sotto sorveglianza 24 ore su 24. Forse è questa la migliore chance di trovare il corpo di Tati, perché è possibile che Lucas torni nel luogo in cui l'ha sepolta, oppure che voglia spostarlo, perché è troppo preoccupato. Dopo un paio di settimane di pedinamento, la polizia sa che c'è un posto in cui Lucas va spesso, troppo spesso. È una zona agricola vicino a Wrexham, non tanto distante da casa sua. Questo terreno è composto da numerosi campi incolti, nessuno ormai vi semina più nulla. I detective quindi ritengono che sia il posto ideale per seppellire un cadavere. Nessun altro motivo suggerisce perché Lucas si rechi spesso in quella zona obiettivamente deserta, non c'è niente. Quindi la polizia si concentra su questo terreno agricolo, dando il via alle ricerche. Tutti i punti in cui il terreno sembra smosso vengono individuati e poi si inizia a scavare. Siamo arrivati a settembre inoltrato del 2008, sono ormai passati circa nove mesi dalla scomparsa di Tati. A ottobre dello stesso anno, Lucas deve affrontare il processo per il materiale sensibile infantile trovato sul suo computer. Viene condannata a una pena di 32 settimane, quindi deve restare in prigione per circa otto mesi. E mentre Lucas è dietro le sbarre, i detective sono decisamente più tranquilli. L'uomo ora non può fare del male a nessuno. Le ricerche continuano, ma purtroppo non producono risultati. Gli inquirenti però non si arrendono, le attività di scavo proseguono pur senza dare qualche sviluppo al caso. Mentre a soli tre mesi dalla condanna, nel gennaio del 2009, Lucas viene rilasciato in anticipo. Ha scontato meno della metà della pena che gli era stata inflitta. Gli investigatori, quando lo vengono a sapere, non perdono tempo e lo rimettono sotto sorveglianza costante, 24 ore su 24. Bisogna tenerlo d'occhio. A quanto pare, in Lucas le vecchie abitudini sono dure a morire. Infatti, la squadra di sorveglianza nota che continua a recarsi tra quei campi incolti. Come se... volessi controllare la zona. Questo rende i detective ancora più sicuri che Tati sia sepolta lì, da qualche parte. La polizia decide così di fare qualcosa per scatenare una reazione in Lucas. Quasi nessuno, compreso lui, sa delle operazioni di ricerca, che avvengono in modo riservato. Il terreno agricolo in questione è davvero molto esteso e il trentenne è solito osservarlo dopo essere salito su una collinetta. Tuttavia, a seguito del suo rilascio, i detective decidono di rendere pubblica la notizia di queste ricerche, sperando che Lucas vada nel panico e cerchi di spostare il corpo. A quel punto, visto che è sempre sotto sorveglianza a sua insaputa, la polizia lo avrebbe beccato, santo cielo, no? Nel marzo del 2009, tutte le informazioni sulle ricerche del corpo di Tati vengono effettivamente diffuse e, come previsto, la reazione di Lucas non tarda a manifestarsi. Pochi giorni dopo, Lucas viene visto dalla squadra di sorveglianza mentre carica alcune valigie nella sua macchina. La polizia, osservandolo, a primo impatto, pensa la cosa più logica. Pensa che stia cercando di scappare. L'uomo sale sulla sua automobile, mette in moto e inizia a guidare. Quindi la squadra di sorveglianza lo segue. Lucas si dirige proprio verso l'ampio terreno agricolo battuto dalla polizia, poi si ferma nella zona più elevata e si mette a osservare i campi. Ha con sé un binocolo e indossa degli abiti mimetici. Sta osservando le squadre di ricerca all'opera senza sapere di essere a sua volta osservato dalla squadra di sorveglianza che riesce anche a fotografarlo. Lucas, infine, si allontana dal terreno e rincasa ma nei giorni successivi torna sempre nello stesso punto a osservare le squadre di ricerca munito di binocolo. Un giorno alcuni detective appena vedono Lucas allontanarsi decidono di salire anche loro sull'altura per guardare che tipo di visuale avesse il sospettato. Scoprono così che i campi in cui stanno eseguendo le ricerche non sono ben visibili da lì. C'è altro che Lucas sta guardando. Notano infatti che un campo in particolare centrale rispetto a quella prospettiva viene trascurato dalle indagini ed è lì che devono concentrare chiaramente le ricerche sul campo che Lucas sta evidentemente tenendo d'occhio per individuare delle parti di terreno che appaiono smosse. Tati è ormai scomparsa da circa un anno e due mesi ma quando Lucas si accorge della piega che hanno preso le ricerche entra immediatamente in azione. La sera del 22 marzo 2009 la squadra di sorveglianza vede Lucas uscire da casa sua e dirigersi verso la sua macchina mentre in una mano stringe una pala. L'uomo mette in moto il veicolo e guida in direzione del terreno agricolo. La squadra di sorveglianza lo monitora mentre imbocca una stradina che porta il campo oggetto delle nuove ricerche e decide di fermarsi. Se gli agenti avessero seguito quello stesso percorso Lucas avrebbe potuto facilmente notarli. Intorno a mezzanotte dopo che Lucas è rimasto sul campo per circa tre ore si allontana a mani vuote e effettivamente questo sconcerta parecchio la squadra di sorveglianza che immaginava a quel punto di sorprenderlo mentre trasportava il corpo di Tati. Lucas invece monta in macchina e torna a casa. Rimane nella sua abitazione per un po' di tempo probabilmente per lavarsi e cambiarsi i vestiti e poi viene visto uscire di nuovo. Lucas va a trovare alcuni amici nel cuore della notte un comportamento strano che per la polizia sottolinea il suo nervosismo. Forse vuole chiedere agli amici un consiglio su come agire in ogni caso Lucas sa che il suo tempo da uomo libero è quasi giunto al limite che la polizia sta per catturarlo. Verso le tre del mattino del 23 marzo la squadra di sorveglianza segue Lucas fino alla stazione di polizia locale. Una volta lì l'uomo parcheggia, entra nell'edificio e indovinate un po', confessa. Seduto davanti ai detective dice che è pronto a mostrare loro il posto in cui è sepolto, il cadavere di Tati Rogers. Attenzione, non ammette di averla uccisa dice solo agli agenti che li avrebbe condotti nel luogo della sua sepoltura. Lucas viene arrestato ancora una volta per l'omicidio di Tati e, appena il sole sorge, viene condotto nel terreno agricolo affinché mostri alla polizia dove scavare per riesumare i resti della povera Tati. Si scopre che in realtà aveva già provato di sotterrarli la notte precedente quando l'ha rimasto sul campo per circa tre ore ma poi aveva desistito. Era troppo difficile scavare al buio. Si era arreso anche perché quel campo in parte è argilloso. La squadra forense si mette immediatamente al lavoro per recuperare i resti di Tati mentre Lucas viene riportato alla stazione di polizia dove lo interrogano per l'ennesima volta. Lucas ammette di essere stato lui a sotterrare il corpo di Tati ma sostiene di non averla uccisa? No, lui non l'ha uccisa, assolutamente no. La storia che racconta Lucas è molto diversa. Riferisce che la sera in cui Tati era scomparsa il 4 gennaio 2008 lui era andato a casa sua per consegnarle il suo regalo di Natale ma quando era arrivato Tati gli aveva detto che stava molto, molto male. Lo aveva fatto entrare in casa e aveva continuato a lamentarsi ripetendo che non si sentiva bene. Lucas quindi le aveva proposto di andare a casa sua per qualche giorno così avrebbe potuto prendersi cura di lei tanto la sua famiglia si trovava ancora in Polonia se ricordate lui era tornato per primo. Tati aveva accettato dunque si erano spostati a casa di Lucas. Stavano trascorrendo una serata normale. Lucas aveva mostrato a Tati alcune foto presenti sul suo computer perché a lui piace scattare delle fotografie poi era andato a fare una doccia lasciando Tati da sola in soggiorno seduta sul divano. Ebbene, quando era tornato in soggiorno l'aveva trovata collassata sul pavimento. Si era avvicinato e si era reso conto che non respirava. Ecco come è morta Tati secondo la versione di Lucas. Lucas afferma che era deceduta perché non stava bene e vedendo il corpo di Tati senza vita nel suo soggiorno era andato nel panico più totale. Confuso era uscito di casa lasciando lì il cadavere per un paio di giorni. Era andato al negozio di bricolage per comprare gli oggetti utili a seppellirlo e nasconderlo. Ora, concordate con me che questa storia è inverosimile, vero? Perfetto. Anche i detective sono dello stesso avviso. Non credono neanche per un attimo che Tati sia morta così all'improvviso per cause naturali. Anzi, sono convinti che Lucas l'abbia uccisa perché se si fosse trattato di un collasso accidentale non avrebbe avuto problemi a chiamare un'ambulanza. Chiunque, e ripeto, chiunque in una situazione del genere avrebbe agito così. E se quello di Tati fosse stato soltanto un malore i paramedici avrebbero potuto salvarle la vita. Invece Lucas aveva optato per allontanarsi un paio di giorni da quella scena che gli causava turbamento per poi tornare e provvedere a seppellire il corpo dell'amica defunta. Sia questo comportamento che l'autopsia effettuata sul corpo di Tati fanno pensare ai detective che Lucas sia indubbiamente l'assassino. Siccome nel terreno in cui Tati è stata sepolta c'è una percentuale di argilla il suo corpo si è mantenuto abbastanza bene. Non è eccessivamente decomposto. Il medico legale durante l'autopsia ha rilevato la presenza di ferite nella zona del collo della vittima. Tati riporta diversi danni alla ghiandola tiroidea evidenziando che era morta a seguito di uno strangolamento manuale. Appena i detective hanno in mano questi dati autoptici affrontano Lucas e gli chiedono di spiegare la presenza di queste ferite al collo della donna. Lui racconta che derivano dai danni che Tati si è procurata cadendo a terra e sbattendo il collo da qualche parte. Ovviamente questa spiegazione fa acqua da tutte le parti. Infatti Lucas viene accusato di omicidio nonostante continui a dichiararsi innocente. Il processo inizia nel novembre del 2009. La difesa prova a portare avanti la sua versione secondo cui Lucas non ha ucciso Tati che era morta per cause naturali anche se lui aveva seppellito il suo corpo. Tuttavia l'accusa presenta alla corte tutte le prove raccolte le quali indicano che Lucas è il colpevole dell'omicidio di Tati. Alla fine del processo la giuria ritiene Lucas colpevole di omicidio e lo condanna all'ergastolo con un minimo di 18 anni. Quindi l'omicida potrà richiedere la libertà condizionale dopo aver scontato almeno 18 anni di pena. Intanto Lucas continua tutt'oggi a dichiararsi innocente quindi non ha mai fornito una spiegazione che chiarisca il movente dietro alle sue azioni. Sono state sostenute diverse teorie ma quella ritenuta più plausibile dalla polizia corrisponde a una delle prime ipotesi formulate. Tati e Lucas avevano una relazione segreta. Tati provava dei sentimenti per lui quindi non voleva più vivere quella storia di nascosto e gli chiedeva di uscire allo scoperto. Esortava Lucas a parlare con la moglie oppure lo minacciava dicendo che lo avrebbe fatto lei o ancora Lucas immaginava che Tati prima o poi avrebbe rivelato tutto così l'ha uccesa. Questa certo, resta una teoria però vi ricordo la presenza del suo liquido seminale sul letto di Tati una prova importante che definirei decisiva ma non solo vi ricordo anche la presenza di immagini cancellate sulla sua macchina fotografica di Tati in desabillé. L'ombra del dubbio forse alleggerà per sempre su questa tragica vicenda che si delinea come un misterioso mosaico rimasto incompiuto. Ma sono davvero curiosa di sapere quale sia la vostra teoria voi cosa credete che sia successo? Condividete l'ipotesi degli investigatori oppure ne avete delle altre che non rientrano tra quelle esaminate in questo video? Secondo voi i giurati con la pena prevista per Lucas hanno reso giustizia quantomeno alla memoria della povera Tati? Mi era triste pensare a questa donna che per seguire l'amore ha lasciato il suo paese e stravolto la sua vita e poi forse a causa di un'altra relazione dove l'amore era solo un abbaglio quella vita l'ha bruttamente persa. Detto questo io ho finito di parlare in questo video ho finito di raccontarvi questo caso fatemi sapere se lo conoscevate come già detto precedentemente fatemi sapere le vostre opinioni come al solito ci becchiamo nei commenti qua sotto io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fatti bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.